100 iscritti Devo farci assolutamente un video ringraziamento Quindi ecco qua Quindi 100 iscritti ragazzi Non so se si è aggiornato su Youtube Comunque si aggiornerà presto ragazzi Grazie mille Perché 100 persone che mi seguono Spero di arrivare a un altro traguardo Prima o poi magari 120 iscritti 150 iscritti Sarebbe un altro traguardo favoloso E niente ragazzi Volevo dire questo Poi di altre news Volevo dirvi che intanto lo speciale gente iscritti Arriverà a breve Magari fra un tipo 5-4 giorni Adesso lo registriamo E poi lo pubblicheremo Lo editiamo E sarà uno speciale veramente epico E poi ragazzi Vi volevo dire che adesso inizia la scuola Dopodomani Oggi è sabato Quindi ragazzi Non avrò più tempo di fare due video a settimana Ma ne farò solo uno video a settimana Che comunque almeno vi porto i video Perché adesso li sto Sto cercando di registrarli tutti adesso E poi Devo solo pubblicarli Quando Devo pubblicarli In quella settimana Quindi un video a settimana Dipende Non so i giorni Di preciso Perché se non ho compiti Pubblico Lo pubblico lì In quel giorno Se ho compiti Magari al giovedì Non lo posso pubblicare al giovedì Quindi dipende dai compiti che ho Quindi ragazzi Volevo dire solo questo Un video a settimana Da lunedì Quindi da lunedì Si parte Con un video a settimana Magari Sempre di giochi Clash Royale E Quando uscirà FIFA 17 La demo di FIFA 17 La porterò Di sicuro Infatti La live Perché le news sono che Da lunedì Vabbè Finora adesso non faccio più video Cioè Questo è il video della domenica Un ringraziamento E da lunedì Faccio un video Che sarebbe Una live Sulla demo di FIFA 17 Perché La demo di FIFA 17 Esce Martedì 13 E E poi farò una live E poi le prossime settimane Magari posso pubblicare Clash Royale E tante altre cose Quindi ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Lasciate un bel pollice in su Arriviamo a 6 like Per un prossimo 7 like 7 like Per un prossimo Vlog Quindi ragazzi A presto Magari Infatti Ragazzi Volevo dirvi un'altra news Se esce Due video A lunedì Perché Come vi ho detto prima Farò un video settimana Ma In questa settimana Quando inizia la scuola Da lunedì Faccio due video Perché devo fare La live Della demo di FIFA 17 E poi Anche lo speciale Di 100 iscritti Che uscirà Magari Un sabato Una domenica Prossima Quindi ragazzi Spero che questo video Sia piaciuto Arriviamo Vabbè A 7 like Quindi ragazzi Grazie mille Ancora Per i 100 iscritti Spero Il mio prossimo Traguardo Sarà 150 iscritti E oltre Quindi noi ci vediamo Nel prossimo video Qui è tutto Da Brune 2005 Se non lo avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Quindi qui è tutto Da Brune 2005 Ciao a tutti